Portare un vecchio gioco, un picchiaduro da strada, devo scegliere la nuova versione internazionale Giapponese, ok andiamo Versione giapponese che non ci sto capin' niente perché le scritte sono tutte giapponese Te ci capisci qualcosa Samu no, io niente Chi prendiamo allora, Blood, Oak, Boomer o Sledge Questo, no, prendiamo questo che pare al Kogan, dai Mi ispira di più, Oak, dai Eh, è un vecchio picchiaduro in stile Final Fight Double Dragon Un vecchio picchiaduro Eh, Samu allora, dì la tua, ti piace sto gioco? Eh, è un gioco di parecchi anni fa, di qualche annetto fa Allora, la mazza Vai Ma vaffanculo, guarda Sto deficiente No, chi è in diretta, eh, ci mancherebbe Oh, quattro spettatori, ciao a tutti Non riesco a vedere come al solito i commenti, eh, gente, comunque Ma vaffanculo, va Mettiamo un po' di crediti, almeno Ma com'è che è facile? Ah, ecco Ah, qui potremmo cambiare Prendiamo un po' il biondo Piamma il biondo, dai Questo, parti marziali Teoria un po' più forte Ok Prima, raga, ho giocato con un minifode a Hotline Miami Che è un bel gioco, ve lo consiglio Ci farò qualche video Anzi, a me piace giocarci magari in live con qualcuno Perché penso che si può giocare in live con Hotline Miami Stile retro anche quello Ma Molto bello Molto bello Molto violento come gioco E anche un po' Diciamo un po' Controcorrente come gioco Una sorta di postal Ecco, adesso fra un po' arriva il boss Vai Energy Oh Eh ma il latte lo devo prendere? Oh Vai Questo qua non si tira su una rossa delle alle Ma cosa è morto? Morto un wheel È morto Ah No, cazzo Cazzo Vabbè ce ne avevo poca di energia Me lo dovevo aspettatelo Stage 1 clear, ok? Ok Ora questo qua non si tira su una rossa Ora questo qua non si tira su una rossa Andiamo a Mr. Nick Esatto Uscì la pompa Uscì la pompa Ma vai affanculo Ma che cazzo Deve si fa Quello lì Sembra una donna Ok Go Eh È vero Il pollo Il pollo Me dà energia I tipi Tipi da strada Oh La bomba Ah no Pensavo che era una bomba Sì Il barile Vai Questo non c'è bisogno Perché già prendiamo l'ascensore Ah che cacchio Ah che cacchio Trovo sempre con questo Però Occhio che quello Cade giù Ah non me freghi Eh No no Non è boss Meno male Meno male l'ha colpito Quello Ancora Oh ma ancora Eccolo questo Eccolo questo No 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 Questo quando te prende Non te lascia più Joe Oshugi Si chiama Joe Oshugi E' lì C'è il nome lì Guarda Giù sotto Guarda Guarda che roba Guarda che roba Dai dai Vai a fare il culo No Aglia Per poco eh E vabbè Adesso Ne mancava poca Ce l'ho fatta Guarda che roba Guarda che roba Guarda che roba Guarda che roba Efficiente Ok Oh ma... Ma non è circondato a destra o a sinistra? Questo Che cazzo è successo? A sto punto più l'altro Prendiamo questo Vai Questo mi ricorda un po' P.E. Baracus Quello con l'A-Team Ecco la tipa che dobbiamo liberare E' il boss Oh 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 Ma va a fare in culo Oh 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 Quando fa il quicito salta addosso Eh immaginavo Oh 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 E' il tuo carapidola tipa Il gatto dentro il buzzico non so che cazzo fa Comunque Ecco No 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 Guarda 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 Non ti liberi più quando ti ha preso Ehm Prendiamo lui dai Che è più facile Ok Ok E' il sosho in cui facevo la live Adesso è il momento s'allontanato Oh 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 Eh no La tiva Oh 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 Ok Ah non Non la potevo prendere lì la La frusta della tiva Ok Ecco Ecco Ma ha preso lui Oh 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 Abbiamo un incendiario A presto E' il suo 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 Ma vaffanculo va No Vai Scusate gente Ma questa Qui è difficile Siamo in live Vai Ok 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 Oh 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 Ok 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 Vai Ma vaffanculo deficiente Nooo Vai Ma perché i gatti dentro i buzzichi qui? Siamo al cazzo di nuovo gente Vai Ma dai Eccolo eccolo Il nano maledetto Fra un po' arriva pure suo fratello Gemello Eccolo la Gemelli diversi praticamente Eh Aia Eh Guarda che macello qui C'è attacca nel instante Aia E che cazzo è qui? Pure il cazzo è moccigante le palle Oh Oh Ma io non ti cazzo è questa roba Questa arma Ancora Ok Ok Ha il tipo con la fiocina ora Ma Oh È Oh What Oh 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 No Ah, cool no meh no meh ma confido maia no no finalmente era ora no ciao a tutti ho attivato adesso la live la chat all'improvviso no 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 ... Vai! Ahia! Cambio continuamente personaggi Ehm, che fa legato! Oh no, eh? Oh no, eh? La moto del cazzo! You should share it! Sì Ma vaffanculo Ma no, no, no Ah ecco, siamo giunti Allo stage finale C'è il boss, il boss finale Faust Ahia Vai, vai Ok Praticamente l'abbiamo liberato La tipa Extra stage C'è, immaginavo che c'era un Extra Trae Ahia 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 Ok Mi sa che sono gli ultimi due questi eh Dopo è finito il gioco Nooo Nooo Ah, sì Oh, no Nooo Pure quella con la frusta maledetta Dai che manca poco Ah, sì Ah 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 Ecco, bravo Mmm Ah Fino all'ultimo questo Ma da Le noie eh Eh Ce l'avemo fatta dai Finalmente Ci godiamo i titoli di coda Prima di Di Finire poi la live Vi ringrazio tutti voi che avete partecipato Vi invito a iscrivervi al mio canale Mr Natalini Lasciare un like Attivare la campanellina Per non perdervi le future notifiche video E Niente raga Alla prossima Ciao 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 Ciao